Non vi fossero già sufficienti ragioni per creare un clima di apprensione per quel che concerne gli ospedali triestini. I fuori reparto, le attese al pronto soccorso, ora spunta il mistero del garage fantasma. Farebbe parte del nuovo comprensorio del Maggiore. L'entrata è visibile da via Stupariccia a qualche decina di metri dall'incrocio con via Gatteri. L'accesso di solito è chiuso con un cancello, ma in qualche modo è segnalato da un contenitore per rifiuti posizionato fra l'altro nei pressi del complesso operatorio e della rianimazione. Il garage potrebbe contenere fino a 17 autoambulanze e per questo è stato progettato. Dall'ultimazione dei lavori, un anno e mezzo fa ad oggi, il garage è rimasto inutilizzato, se non come deposito e da qualche mese come parcheggio, come dire, privato per qualcuno che evidentemente è riuscito a procurarsi un sistema per entrare. Secondo fonti interne, pare che l'attuale direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari triestina dell'Iquadri, ora in procinto di divenire commissario della struttura ospedaliero-sanitaria, avesse pensato a tale soluzione quando era direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, ma che dopo aver effettuato un sopralluogo assieme ai responsabili del 118 non abbia ritenuto il garage fantasma adatto a collocare l'autoparco del pronto soccorso, ora ospitato provvisoriamente presso la caserma dei vigili del fuoco in via Dalviano. Resta il fatto che durante l'inaugurazione ufficiale del nuovo polo del Maggiore, la struttura inutilizzata, pagata col denaro pubblico beninteso, non è stata mostrata all'assessore regionale alla sanità telesca.